E' stato fermato ieri pomeriggio il presunto killer del 63enne di Baronissi, ucciso in mattinata nei pressi della casa della madre in frazione Sava. Gli inquirenti hanno individuato la macchina dell'uomo nella frazione Capricano di Baronissi. Il presunto killer è stato fermato dai carabinieri e condotto presso la caserma di Mercato San Severino. Era ricercato da forze dell'ordine, protezione civile e corpo forestale ed è stato trovato in stato confusionale sulle montagne nei pressi di un casolare. Dalle prime indiscrezioni pare che non fosse in possesso dell'arma del delitto. Sono in corso le verifiche del caso, soprattutto per capire i motivi di un così violento gesto terminato con l'uccisione dell'imprenditore 63enne.